Niente acqua domani in alcune zone della città dove è previsto il turno di erogazione. Parliamo di contrada Isabella, in particolare della via Tacci. Questa volta il disservizio non dipende da giurgenti acque. La società che gestisce il servizio idrico integrato in città ha infatti comunicato che la mancata erogazione è legata all'interruzione della fornitura elettrica agli impianti ubicati in contrada Mendolito, domani dalle ore 8.30 alle 16.20. Ciò provocherà lo spegnimento del sollevamento idrico che alimenta il serbatoio San Caloggio nella zona di via Tacci in contrada Isabella. Ripristinata la fornitura elettrica, la distribuzione idrica tornerà a regolare normalizzandosi precisa giurgenti acque nel rispetto dei tempi necessari tecnici. Significa, come da prassi del gestore, che saltato il turno di domani occorrerà attendere quello di venerdì per ricevere l'acqua. Nelle ultime settimane ai guasti agli impianti di competenza di giurgenti acque si è aggiunta anche la sospensione della fornitura elettrica che, di fatto, genera la stessa conseguenza, ossia la mancata erogazione dell'acqua e successo in diversi comuni gestiti dal privato.